Partirò da due premesse e poi porrò semplicemente due domande che vorrei trovassero delle risposte negli interventi che si tirano. La prima premessa è il motivo per il quale c'è questo titolo. Io sono convinto che l'emergenza più grande che stiamo vivendo è la crisi della politica e all'interno della crisi della politica la crisi dei partiti. Ora dobbiamo concedere tutto ciò che un garantista deve concedere all'accertamento delle verità che ogni giorno leggiamo sul giornale, ma non c'è dubbio che il quadro di ZM è un quadro molto preoccupante e che segnala una crisi profonda dei partiti. I partiti sono in crisi almeno per tre ragioni fondamentali. La prima è che hanno definitivamente perso il contatto con le ideologie novecentesche. Questo può essere anche un fatto positivo, ma è un fatto che è sotto i nostri occhi. di quelle ideologie non rimangono ai partiti più nemmeno i residui paretiani. Non c'è più nemmeno qualcosa, nemmeno più una sensibilità. Noi lo comprendiamo se guardiamo un attimo allo Stato in cui si trovano la socialdemocrazia e il popolarismo europeo. Sono tutti all'interno dell'orizzonte della crisi, anche se spesso vengono evocati come possibili soluzioni. Ma in realtà sappiamo che non lo sono. Se guardiamo al dibattito che si è svolto nel tempo della crisi, ci rendiamo conto che sia la famiglia popolare sia la famiglia socialdemocratica è stata attraversata da conflitti transversali che hanno portato spesso i principali leader popolari ad essere i principali avversari di governi nazionali che erano governati da esponenti che facevano parte della loro stessa famiglia. I riferimenti a Merkel, Sarkozy e Berlusconi sono assolutamente voluti. Il secondo problema. La crisi ha una tale dimensione, verrà sicuramente ricordata come la crisi economica più profonda dell'età dell'evo contemporaneo, al cospetto della quale quella del 29 impallidisce, che la risorsa carismatica che alcuni partiti avevano non ha più il valore di prima. Perché è evidente che di fronte a questa crisi nessuna personalità, nemmeno la più forte, nemmeno la più carismatica, può da sola pensare di andare oltre, di interpretare quello che è la metafora del carisma, Mosè, che ti porta oltre le a, la metafora bebeliana del carisma. La terza ragione è una ragione più prosalica, ma che ha un suo profondo significato. E cioè, nell'epoca del debito pubblico, i partiti non possono più utilizzare la leva della spesa. Mentre, diciamolo in maniera proprio brutale, i partiti distribuivano risorse, oggi sono chiamati a sottrare risorse ai cittadini. Senza più ideologie, senza più la risorsa carismatica, senza la leva della spesa, la crisi dei partiti diventa oggettivamente un abisso. E io credo che di fronte a questa crisi ci sono due risposte illusorie e una strada obbligata. Le due risposte illusorie sono, una, quella di pensare di potersi salvare rincorrendo l'antipolitica. Io penso che questa è una strada che non porta da nessuna parte, o meglio, porta ad una perdita setta della democrazia. Perché, vi assicuro, per ragioni professionali, sono un esperto in materia, democrazie senza partiti non sono mai funzionate, non hanno mai funzionato, non possono esistere e l'antipolitica non si accontenderà mai di quello che gli riesci o gli puoi dare, se ti collochi solo su quel terreno. Ti chiederà sempre di più se la risposta è unicamente su quel terreno. Voglio essere chiaro, questo non vuol dire che non ci sia un bisogno di sobrietà e di competenza che i partiti devono acquisire. L'altra linea, secondo me, altrettanto sbagliata e illusoria è il limitarsi da parte dei partiti a definire una strategia economica intesa come mera variante del tecnicismo, senza inquadrarla in una concessione della vita, della persona, della società, dalla quale ogni politica economica, persino quella di marca marxista, deve per forza di cose discendere. C'è la soluzione obbligata, se queste sono le soluzioni sbagliate. E quella che, a mio avviso, a nostro avviso, ed è per questo che proponiamo poi il tema, andrebbe seguita. I partiti devono definire una propria identità. Non una identità con connotati ideologici, in senso novecentesco, ma un'identità costruita sulle risposte ai grandi problemi del nuovo senso. Il paradigma del nuovo secolo ci pone problemi che nel secolo scorso erano sconosciuti. Quando mai noi avremmo parlato di una agenda violenta? Quando mai avremmo pensato che le maggioranze di governo si sarebbero potute fare su un tema come l'immigrazione? Questo paradigma è completamente cambiato e chiede che ci siano delle identità partitiche in grado di dare delle risposte. Insomma, la fuoriuscita dalla crisi non può non passare, secondo noi, attraverso una riscoperta di senso. È innegabile che l'onda d'urto della crisi abbia colpito anche la politica. Per tornare protagonisti, oltre a riformare gli strumenti della sovranità, quelli attraverso i quali si esercita la democrazia, i partiti devono trovare un loro profilo identitario e valorizzato. Devono parlare al cuore e non soltanto alla mente dei cittadini. Grazie!